Chi poteva fare un cameo in Ghostbusters se non lui? Ebbene sì, pare che Dana Croyd avrà un piccolissimo ruolo. Il nostro amato Dan interpreterà un tassista che il personaggio di Kristen Wiig cerca di fermare nel traffico. A quanto pare l'attore pronuncerà la celebre battuta I ain't afraid of no ghosts. Ma tranquilli, questo nuovo Ghostbusters non è ambientato nello stesso universo narrativo del film originale. Quindi, niente Ray Stans, non è un sequel, è un reboot, come diciamo noi giovani. Nuova featurette per Crimson Peak. Cos'è Crimson Peak? L'ultima fatica di Guillermo del Toro. La featurette ci permette di conoscere meglio l'universo gotico che fa da scenario il film. E, secondo il regista, Crimson Peak avrà un'atmosfera che renderà i fantasmi reali. A proposito di Guillermo del Toro, le riprese di Pacific Rim 2 cominceranno il prossimo autunno. A quanto pare, nel secondo capitolo scopriremo cosa è successo alla tecnologia degli Jäger una volta che i kaiju non sono più una minaccia. C'è tempo, eh? La release del film è prevista per il 4 agosto 2017. Mi raccomando, www.screenweek.it se ci tenete a essere aggiornati su tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere sul cinema.